Netta vittoria del sì al sondaggio sulla fusione tra i comuni di Cuerovas e l'anno di Piave. Terminato il primo ciclo di incontri nelle frazioni di due comuni, ci sono raccolte le prime opinioni dei cittadini in vista del referendum che si svolgerà nel prossimo autunno. 87% di sì e un 13% di no, quindi insomma dal punto di vista democratico mi pare un'indicazione chiara. Chiaramente la scelta finale sarà fatta con il referendum, noi adesso andremo nei consigli comunali e poi una volta che la regione avrà fatto il suo passaggio, prima dell'autunno, quindi entro il 31 di ottobre, bisognerà fare il referendum e faremo un'altra campagna importante in modo da mettere tutti i cittadini nelle condizioni di avere le informazioni corrette per poter decidere. Significativa la risposta dei cittadini a questa prima verifica. La società che ha sviluppato tutto il progetto di fusione ci ha anche fatto capire che questo sondaggio non è sempre molto partecipato perché non ha valenza, invece che nel nostro caso ha avuto un riscontro abbastanza positivo perché ha circa un 6% degli aventi di diritto senza l'aereo e quindi è comunque un campione anche da un punto di vista statistico molto significativo. Sostenuta la larga maggioranza, 85%, anche la nuova denominazione di comune di Setteville, anche se non sono mancate le proposte da Conca del Piave a Castelnuovo o Borgo del Piave. Importanti poi le aspettative e le necessità segnalate dai cittadini, in particolare per le manutenzioni, maggiori servizi e minor carico fiscale. Anche negli incontri pubblici ci siamo presentati proprio con questi capisaldi. Fra le risposte c'è stata anche, una mi ha colpito in modo particolare, manteniamo quello che abbiamo, manteniamo bene quello che abbiamo e implementiamo i servizi, io credo siano proprio i pilastri su cui si giocherà poi la sostenibilità del prossimo comune. Il tema delle risorse resta centrale. I trasferimenti che ci saranno con la fusione serviranno proprio a questo, a dare uno sviluppo al territorio, un ulteriore sviluppo al territorio, un sostegno alle attività ma anche tutta una serie di servizi ai cittadini.